Siamo con Giuseppe Montello in quella di Modena Ski Pass, l'ho chiesto un po' a tutti i tuoi compagni di squadra, è bello vedere comunque quanto il biathlon stia crescendo in Italia, certificato anche dal premio ricevuto ieri da Dorotea Wierer perché mai una biatleta o un biatleta italiano aveva ricevuto questo riconoscimento da parte della Fisi. Sì, anche noi ci stiamo accorgendo che il biathlon in Italia ha sempre più seguito e mi fa molto piacere che Dorotea sia stata eletta atleta dell'anno con la stagione che ha fatto e sicuramente se lo merita. È stata veramente una grande stagione per il biathlon italiano, invece per quanto ti riguarda come stai, come sta procedendo questa preparazione? Siete stati proprio poche settimane fa ad Anterselmo. Esatto, sì, settimana scorsa eravamo ancora ad Anterselmo, la preparazione sta procedendo bene, sono soddisfatto, i test sono buoni al momento, però come dico sempre le gare sono fra un mese, quindi vediamo cosa succederà poi quando conta veramente, però l'aspettativa mia è alta e buona. Senti, mentre eri lì ad allenarti sulla pista di Anterselmo, vedevi quelle tribune un pensiero a febbraio al mondiale, l'hai fatto? Ma onestamente sì, ho pensato che quelle tribune saranno ancora molto più grandi rispetto a come erano adesso e che sperando di esserci sarà sicuramente un'esperienza fantastica. Obiettivo ovviamente la convocazione per il mondiale e ovviamente non solo la convocazione, anche fare un buon mondiale, poi? Ma per me l'obiettivo sicuramente è quello, però ci terrei a fare, come dire, a fare buoni risultati un po' in tutta la stagione. Per me è difficile puntare ad un appuntamento singolo, punto sicuramente ad analizzare il mio livello e mi piacerebbe riuscire finalmente ad entrare nei venti come obiettivo. Vieni comunque da una buona estate, quindi questo ti ha dato anche una maggior fiducia? Ma sicuramente sì, d'estate le cose hanno funzionato bene, al tiro mi sento di essere cresciuto e spero di dimostrarlo d'inverno. Quanto è importante quest'ultimo raduno che farete in Norvegia? Ma sicuramente è importantissimo, è un raduno dove si va a finalizzare la preparazione che dura ormai da sei mesi e speriamo di trovare buone condizioni, magari prendere un po' meno acqua dell'anno scorso e che tutto vada liscio. Ieri parlando con Elisa Vittozzi ci ho detto che ti fa un po' di dispetti quando vi trovate in ritiro insieme, cioè se tu vedi l'Inter lei si mette lì a gufare. Ah, quello sempre. Noi sia nel calcio che nel tennis tifiamo squadre o comunque campioni opposti e ci rompiamo sempre un po' vicenda, quello sempre sì. Adesso mi devi svelare chi ti fate nel tennis. Ah, nel tennis io sono più per Djokovic e invece lei per Nadal. Ok, io Feder, quindi siamo in disaccordo tutti e tre. Feder piace a tutti, è il dio del tennis penso. Senti, l'ultima cosa, questo è un po' scherzosa, questi baffi stiamo facendo crescere anche per la stagione? Ma no, ho sbagliato a fare la barba quindi lasciate i baffi, questo è il motivo.